Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo, al via tra pochi minuti un avvingente convegno che si inserisce in un'area di feste. La festa della fragola è giunta alla sua giornata conclusiva dopo le giornate di successo del 27 e del 28, edizione che ha offerto ovviamente un ricco programma anche quest'anno che racconteremo nel dettaglio nel corso del pomeriggio. Ovviamente il galoppo si concentra soprattutto sul Gran Premio Città di Siracusa, un handicap principale B che verrà i cavalli di quattro anni ed oltre impegnati sul miglio della pista grande per gli otto montepremi di 25.300 euro. C'è attesa anche per le debuttanti, una narseri tutta al femminile che vedremo scena già alla seconda del pomeriggio e poi presente l'ITM, l'Irish Strawbread Marketing, che presenterà i cataloghi Asta Brissap e Tarter Cell Girls Bridge del 23 e il 24 maggio 2024 e riserverà inoltre premi ai proprietari vincitori in due corse che poi ovviamente anche in questo caso racconteremo nel dettaglio. Ad aprire il convegno il premio The Blacklist, un handicap discendente, quattro anni ed oltre al via sul doppio chilometro, 2100 metri, in realtà della pista piccola, restano in sette dopo il ritiro di Belted. Questa prima corsa, in questo spettacolare convegno, li può dormire in ragione e si parte. Maierri è più veloce dall'esterno, prova a convergere ma di dentro trova dei bisognosi Deron Kitt a sbarragli la strada. Insiste per il momento Maierri, seguito da Ornè, a chiudere Wither Rainfall e Prisoner of Love. Passa al comando, proprio sotto le tribune, sul traguardo, Maierri. All'esterno in paria, Ornè a largo ed è bisognosi all'interno, quindi ancora Prisoner of Love, che ha all'interno invece Rossino, a chiudere Wither Rainfall. Ritmo più che discreto, quello che Maierri sta imponendo alla corsa e così si va a completare la prima delle due curve con Maierri sempre leader, Ornè che lo segue da vicino con all'interno dei bisognosi, quindi ancora Rossino, Deron Kitt, Prisoner of Love, a chiudere Wither Rainfall. E siamo già sulla retta opposta all'arrivo, prosegue la marcia in avanti di Maierri, Ornè e De Bisognosi a seguirlo da vicino, poi Rossino e Prisoner of Love a chiudere Deron Kitt e Wither Rainfall. Siamo a tre quarti dalla dirittura opposta, si farà tra breve ingresso in curva di pista piccola, con le posizioni che restano invariate, ovvero con Maierri al comando, Ornè che lo segue da vicino con all'interno dei bisognosi, poi Deron Kitt che guadagna posizione per via interna, con a largo Rossino, quindi Prisoner of Love a Wither Rainfall. Siamo sul tratto finale della curva, pronti a fare, ingresso addirittura all'arrivo e qui si comincia a far sul serio, Maierri però è sempre davanti, Deron Kitt pericoloso per via interna, adesso De Bisognosi che muove a largo, ancora più a largo ci trova Ornè che sembra però un leggero calanto, è lotta aperta tra Maierri e Di Bisognosi che tende a passare, dietro si fa vedere anche Deron Kitt ma resta almeno a tre lunghezze di stacco dei due che continuano a montare, Maierri e Di Bisognosi, Maierri all'interno, De Bisognosi all'arrivo, De Bisognosi che mette qualcosa avanti ai cento finali, De Bisognosi che ervintuzza tutti gli attacchi di Maierri al terzo, Deron Kitt su Wither Rainfall. Successo di De Bisognosi che era parecchio atteso e così si è confermato il figlio di Albert Dock, 3.21 la sua quota, il colore del signor Andrea Franco, il training di Vincenzo Carusa, Federico Bossa che inizia subito alla grande questo convegno. Al secondo posto il 5 di Maierri precede il 2 di Deron Kitt per un arrivo che vede il 3 al primo posto, il 5 al secondo e il 2 al terzo. Complimenti a Federico Bossa che apre le danze oggi all'ippodromo del Mediterraneo, il favorito De Bisognosi la porta a casa sulla distanza, si era mosso molto bene, bravo a respingere l'attacco di Maierri. Sì, sono contento di aver vinto perché è un cavallo veramente molto particolare che proprio non gli piace vincere, è un cavallo che non si impegna mai al 100%, però oggi è venuto tutto bene, oggi veramente se la meritava. In fondo è passato, lui lo dominavo, però quando passa lui non si stacca più tanto, anzi tendeva a fermarsi, ho vinto molto meglio di quello che sembra, è un cavallo molto particolare che se non gli viene tutto perfetto non gli piace tanto vincere, però è sempre lì, oggi meno male l'abbiamo portata a casa. E tu lo conosci bene, complimenti Federico. Grazie. Bene, prendiamo per un attimo la linea qui dal paddock delle premiazioni, perché mi sembra doveroso soffermarci con Pippo Miano, vicepresidente dell'Ippofest che organizza ormai da 17 anni la festa della fragola qui all'ippodromo del Mediterraneo, 19 in tutto, ma i primi due anni sono stati organizzati a Cassibile, se non erro, quindi sicuramente una festa che ha avuto sempre ogni anno un crescendo, sempre maggiore, tanto tanto successo e oggi e anche quest'anno le tribune così gremite di gente ce lo dimostrano, Pippo? Ma sì, sicuramente 17 anni, adesso la puntata, la giornata di oggi ad esempio, è il massimo delle 19 edizioni che abbiamo fatte scorse, infatti se potete vedere la tribuna è gremita di popolo, gente che ci sono anche pullman di Reggio Calabria quest'anno, ma non solo, da un po' tutta la Sicilia, dal Palermitano, dal Ragusano, Catania, Catania infinite, ma oggi abbiamo avuto un ingresso di persone in base ai nostri calcoli che facciamo di 15.000 persone, ripeto, venute da tutta la Sicilia, e quindi dimostra ciò che il connubio festa della fragola e Ippica è un connubio sicuramente vincente, l'ippodomo del Mediterraneo, stupendo, bellissimo, che si presta anche a questa bella manifestazione, quindi il tutto fa sì che la festa ogni anno riesca e abbia un successo sempre maggiore e sempre più bello. Ovviamente dietro a un grande successo c'è una grande organizzazione con un programma ricco e variegato che tocca un po' ogni target, tanto spazio dedicato ai bambini e questo è importante, alle famiglie, e poi valorizzazione del territorio con gli stand enogastronomici, questo contribuisce sicuramente al successo di questo evento. Ma sì, è logico che la gente che ci viene a visitare non può trovare solo ed esclusivamente fragole, quindi le fragole sì, ma anche la pasticceria, in tanti modi, ieri abbiamo fatto lo show cooking di un risotto alla fragola che la gente ha assaggiato, era squisito, anch'io l'ho assaggiato ed era meraviglioso, che poi l'abbiamo omaggiato a tutti i presenti. E si conclude oggi, il primo maggio, con il taglio della torta di 500 kg che regaliamo e omaggiamo a tutti i presenti. Non solo, ma anche spettacolo, ogni anno studiate a pennello, insomma, è andata a trovare l'artista che possa dare risalto a questo evento. Ieri, cabaret con Emanuele Aureli, nei giorni precedenti c'è stato Carmine Faraco, insomma, tutto studiato a tavolino. Sì, ormai diciamo che abbiamo finito il giro degli artisti siciliani, perché per 18 anni abbiamo girato e rigirato la Sicilia con tutti gli artisti più o meno bravi che abbiamo avuto presenti nelle scorse edizioni. Quest'anno abbiamo scelto uno degli artisti di Roma, di artisti a livello di Zelig, Colorado e quant'altro, quindi sul Rai 1, tale quale sciola Emanuele Aureli, che è una persona squisita, che ieri sera è stata ospite nostra e ha avuto un successione bravissima anche lei. Quindi il livello degli spettacoli ogni anno è sempre più importante. Se me lo concede, Pippo, vorrei accanto a me anche Patrizia Tidona, volto noto qui all'Ippodromo del Mediterraneo, oggi come componente della Ippofest, un connubio che funziona ormai da tanto tempo, sicuramente con l'audato, quello della fragola, diciamo così, è il galoppo che in questo aggiornato ovviamente inserisce delle coste prostrigiose. La cosa più bella è vedere tante nuove generazioni che vengono da tutta la Sicilia interfacciarsi con una struttura che non hanno mai visto e quindi riescono a trovare il fascino delle emozioni del cavallo, che vivono la passione sul territorio del cavallo. Sentono i proprietari, la gente, gli appassionati che esultano per le vittorie, e ci sono bimbi alibiti che incominciano ad affacciarsi a questa struttura. Quindi è anche un modo per usufruire, per fruire e soprattutto promuovere l'Ippica a 360 gradi. Devo dire che ci sono persone che anche per la prima volta giungono sulla struttura e quindi è proprio promozione del territorio, dell'Ippica in generale. E questa è un po' la direzione che è la linea ministeriale che sta portando avanti soprattutto il nuovo dirigente per l'Ippica, Remo Chiodi, che abbiamo avuto il piacere di avere qui e quindi noi ci adeguiamo e andiamo avanti su questa strada. Complimenti e grazie. Adesso andiamo con una delle prove più attese, direi, di questo pomeriggio al Mediterraneo al Galoppo, primo maggio, con la festa della fragola da contorno. Adesso c'è la nursery, tutta al femminile. Le nuove speranze dei team per i prossimi mesi, perché stiamo per presentare la debuttanti dedicata alle femmine di due anni appunto che si confronteranno sulla breve distanza dei 1200 metri della pista piccola, restano in otto dopo il ritiro del numero quattro Lady Nerea, prova che è abbinata al premio Irish Tour Bread Marketing, quindi ITM, che ascolteremo dopo i referenti presenti quest'oggi, e pronti a distribuire dei premi per i vincitori di due delle corse in programma. Tra queste corse sicuramente la seconda in programma. Per questo premio Lost, con la sponsorizzazione dell'Irish Tour Bread Marketing, la più veloce è Barbar in Love, a largo Barbie in the Jungle, ancora Mademoiselle Rebby, Magic Artist, via via gli altri. Preme Barbie in the Jungle su Barbar in Love e ottiene strada poco prima dell'imbocco della curva finale. E quindi davanti Barbie in the Jungle su Barbar in Love, in terza posizione risalita nel frattempo Queen Army, a largo Mademoiselle Rebby, le altre un po' di qualche lunghezza, capeggiate da Queen Never. Davanti Barbie in the Jungle, Barbar in Love che la segue a una lunghezza e mezzo, provano a risalire anche Queen Army, e Mademoiselle Rebby, e comunque il discorso è legato a queste quattro. Adesso Barbar in Love attacca Barbie in the Jungle, che sembra poter essere in totale controllo sull'avversario, che comunque ci prova a largo. E testa a testa tra le due Barbie, Barbara e la Barbie, Barbara all'esterno, Barbie all'interno, e si prolunga a testa a testa con Barbie in the Jungle, che respinge tutti i tentativi di Barbar in Love, che poi viene trafitta da Mademoiselle Rebby, al quarto, Disputed Queen. Arrivo che ha rispecchiato proprio quello che io avevo percepito dal tondino, il successo di Barbie in the Jungle su Mademoiselle Rebby e Barbar in Love. Erano le tre più belle, e l'arrivo dice questo. Prima due di Barbie in the Jungle, Salvatore Branca per Barbara Consiglio, Daniele Scalora, al secondo le due di Carmelo Bottone, Mademoiselle Rebby davanti a Barbara in Love, 2-5-1. E l'arrivo della seconda da Siracusa. Daniele, Barbie in the Jungle, vince e anche bene al debutto, era una delle chiacchierate alla vigilia della corsa. sentiremo dopo l'allenatrice, il proprietario, ma intanto a te che cosa ti è sembrato? Guarda, Sabina, non ti non nascondo che io l'avevo lavorato in un lavoro mattutino, e al proprietario gliel'aveva detto, gli ho detto spera bene che c'è una bella puletra. Barbara mi ha seguito come allenatrice, e questo è il risultato. Gli faccio i miei complimenti a loro. Pensavi di vincere così bene? Di vincere così bene? No, sai, perché sempre debuti, però sapevo che c'era tanto motore sotto. Complimenti, Daniele. Bene, bene, c'è aria di festa anche qui, dal paddock delle premiazioni, perché abbiamo il primo nove che conta, quest'oggi è l'ipodromo del Mediterraneo, ed è Barbie in the Jungle, che vince la debuttante per le femmine di due anni. Il team è quello di Salvatore Branca, Barbara Consiglio al training, Daniele Scalora in sella. Il team che sarà omaggiato dall'Irish Torbred Marketing, presente oggi all'ipodromo del Mediterraneo, per la presentazione dei cataloghi Aste Breeze Up, Tatter Cell Ghost Bridge del 23 e del 24 maggio, e l'ITM con i suoi referenti, David Barnes, referente rappresentante europeo per l'ITM, e Caterina De Ferrari invece la nostra rappresentante italiana, riserveranno dei premi che adesso andremo a specificare nel dettaglio, e soprattutto dei voucher di 1.500 euro al proprietario vincitore di due delle corse in programma quest'oggi, e tocca proprio al signor Salvatore Branca ricevere il primo assegno da Caterina De Ferrari per l'ITM. Adesso Caterina ci spiegherà come potranno spendere questo voucher, mentre Dave Barnes affida a Barbara Consiglio un altro premio, che ritira come allenatrice. Ovviamente poi vedete voi come distribuirvi i premi. No, ma tanto, allora, Salvo è, diciamo, di famiglia, a prescindere la società, perché lui quando è andato alle aste noi non c'eravamo, non eravamo presenti. Gli è caduto l'occhio su questa meravigliosa creatura che è Barbie. La compro, la prendo? Sì, sì, noi subito, perché quello che fa Salvo noi facciamo, altrettanto lui con noi. C'è una società, è un'amicizia che ci lega, e quindi gli ho dato anche il piacere, perché anche lui, essendo proprietario, siamo portatori anche noi di colori, però, dice, questa volta si inaugura con i colori tuoi, la benvenuta. Barbara Consiglio, ne avevamo parlato ieri noi, di questa Barbie così tosta. Barbie perché, per te, perché tu ti chiami Barbara, e quindi Barbie dal tuo nome. Ovviamente c'erano tante aspettative, ieri c'era molta fiducia, però ha corso veramente bene. Abbiamo avuto fiducia sin dal primo momento che lei ci ha fatto vedere quella che adesso, oggi, si è dimostrata. Però, come ben tu sai, sono debuttanti, sono buletri, quindi non sai cosa ti aspetti nel giorno delle corse. È stata un'ansia, non ti dico, Sabina, portarla al giorno della corsa. Lui sicuramente non ha dormito, perché è stata in ansia, non ti dico come un bambino, altrettanto noi. Però ce l'abbiamo fatta e ci ha fatto gioire. Salvatore Branca, non vuole parlare, me l'ha chiesto prima, le facciamo tanti complimenti, sia per la cavalla, ma soprattutto per la scelta, perché Barbara ci ha confessato che è stata lei a sceglierla, e quindi speriamo bene adesso. Un saluto e basta. Grazie mille. Caterina, e adesso allora, diamo indicazioni su come spendere questo voucher da 1.500 euro. Il voucher si può spendere nelle aste irlandesi da qui fino a fine anno, per cui le prime che saranno in Irlanda sono le Breeze Up, che sono al 23-24 maggio, e se no poi si può spendere a settembre-ottobre nelle aste per i puledri. Ringraziamo anche ovviamente David Barnes, presente anche quest'anno qui all'Ippodromo del Mediterraneo. Grazie per il tuo presente. Grazie per avermi qui, siamo molto felici di venire a Saracusa ogni anno. Grazie molto di nuovo. Grazie, Sevilla. Grazie anche a David Barnes. Proseguiamo con la terza corsa, seconda dedicata al premio Irish Breeze Up ETM, quindi si tratta di un handicap discendente da 6.600 euro, quattro anni ed oltre al via, sui 1.600 metri della pista grande. Sono in undici agli ordini dello starter. Dentro Midical Mill, led chiamati a uscire fuori dagli stalli e si parte. All'interno Mobbif scavalcato subito da Easterbound, da Star Ocarina, ancora Griff Desha, che sembra poter prendere iniziativa, ma al suo interno rinviene Mordene Grey. Alla Mordene Grey, in coppia con Star Ocarina, poi Easterbound, Griff Desha. Ancora a seguire B-Strong, è il gruppo che si sfilaccia, chiuso da Regalov. Buoni ritmi in posto da Mordene Grey, in testa alla corsa. Lo segue Star Ocarina, davanti a Easterbound. Al largo si fa vedere Griff Desha, seguito da B-Strong. Gli altri, tutti ben raggruppati, chiusi sempre da Regalov. Si fa l'ultimo tratto della curva di pista grande, con Mordene Grey, che la percorre al comando, su Star Ocarina e Griff Desha. Gli altri che si raggruppano e si compattano. Grande volatona per questi 500 metri, addirittura arrivo con Mordene Grey, che prova all'allungo. Al suo esterno si schierano a ventaglio, Griff Desha, Star Ocarina, Easterbound senza spazio, lo scatto di B-Strong, filato dal numero 4 di Monofit. All'argo si fa vedere anche il numero 6 di, il numero 5 di Light Go. È un arrivo tra B-Strong, Light Go, lo scatto di Mobif all'argo di tutti, Light Go e Mobif alle prese. È un tessa-tessa 3-2 con Light Go, che all'interno rimonta Mobif. Al terzo, By Even su B-Strong. Gran bel successo di Light Go. monta perfetta, quella di Ivar Rossi, che ha sfruttato un binario interno, una vera autostrada, che l'ha portato dalla penultima posizione a piumbare sulla testa della corsa e difendersi dalla fondo finale di Mobif, che regola By Even e B-Strong. Light Go, Mirella Stivale ai colori, Vincenzo Caruso al training, Ivar Rossi, il figlio di Anodin, 4 anni, 4-11, la sua quota, 5-4-9, 5-4-8, l'arrivo della terza della Siracusa. Le immagini della nostra regia propongono la premiazione di questa terza corsa in programma, il cavallo in questione Light Go, Stivale a Mirella ai colori, Vincenzo Caruso al training, Ivan Arrossi in sella. Light TM premia e omaggio con un voucher da 1.500 euro, Renzo Puglisi, che ritira per la signora Stivale a Mirella, è anche il premio offerto sempre dall'ITM. una bellissima soddisfazione anche in questo caso Renzo ci voleva dopo insomma tanta sofferenza questo cavallo dicevo io trovava sempre un feromero di turno qualcosa andava è andato sempre storto oggi è la sua giornata. Eh sì, finalmente è sempre bello vincere dopo qualche problema iniziale il cavallo ci dà tante soddisfazioni se non vince si piazza ma va bene lo stesso. Cercheremo di sfruttare al meglio questo voucher proposto da offerta dall'ITM mi raccomando. Francesco primo, secondo e terzo l'allenatore Vincenzo Caruso perché Mobif è secondo e terzo chiude il podio Bayhaven e allora pensaci tu. Ma con Vincenzo diciamo che le parole possono essere o poche o tante riguardo light go parlavo proprio con Renzo l'avevo visto lavorare qualche giorno fa e parlando così lo scherzo ci si guarda sei fiducioso ma io sempre fiducioso ci si guarda che come l'ho visto io oggi non puoi perdere. Ma light go ci ha dato qualche grande iniziale perché non conoscevamo il cavallo e poi abbiamo scoperto un po' qual era il problema e ha trovato una costanza e poi si è coronata con questa bella vittoria di oggi ma tante volte è andato sempre vicino alla vittoria ha corso sempre bene sempre Lui ha corso meglio in pista grande lui ha 400 metri violenti una corsa come questa dove c'è stato anche abbastanza ritmo lui nella retrovia quando ha preso il binario Ivan ho visto che proprio saliva a doppia velocità Sì praticamente è un cavallo che se vede la lunga addirittura troppo presto rischia di spegnersi prima del palo quindi gli si è aperto un varco fosse un po' troppo presto Ivan ha aspettato l'ha ricoperto ancora e poi quando l'ha tirato fuori era il momento giusto la monta giusta allenatore giusto proprietario giusto sì devo dire che il cavallo l'ha plasmato benissimo Giuseppe Cannarella e poi il complimento anche del lavoro suo è giusto così bene abbiamo l'onore di avere qui con noi Edi Bandiera vice sindaco del comune di Siracusa grazie per questa sua presenza oggi all'ippodromo del Mediterraneo lei che insomma non è nuovo detto bene onore e sentimenti di vera gioia miei essere qui lo faccio tutte le volte che posso devo dire che l'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa rappresenta veramente un'eccellenza di livello mi sento di dire mondiale per noi è motivo di grande orgoglio quindi complimenti a tutti voi che vi spendete quotidianamente per portare agli allori che merita questa struttura tutti voi con in testa il dottore Concetto Mazzarella che attraverso il suo impegno di chi lo ha seguito tanti anni fa ha donato al territorio della provincia di Siracusa della Sicilia questa meravigliosa struttura oggi è bello essere qui assistere a questo premio a queste gare vedere la passione e l'impegno di tutti gli operatori che veramente si cimentano con grande passione sacrificio perché lo sappiamo ed entusiasmo come amministrazione comunale ci sentiamo vicini a questa importante realtà appunto mi piace sottolineare siracusana e viva l'Ippica viva l'Ippodomo del Mediterraneo e sempre avanti verso importanti traguardi e successi che aiutano tutti noi nell'affermare un modello di territorio che sempre di più lavora sulle eccellenze per noi l'Ippica l'Ippodomo e il Cavallo sono vera eccellenza di Siracusa e di Sicilia oggi tra tutti gli stand presenti qui oltre 160 ci sono tanti produttori enogastronomici quindi da qui parte anche la valorizzazione del territorio è d'accordo? Beh lei tocca il cuore di un dottore agronomo quale sono? Di una persona che ha avuto l'onore di essere assessore regionale all'agricoltura quindi in Sicilia sono una persona che mi sono distinto per aver distribuito un miliardo di euro in tre anni alle aziende agricole siciliane ne conosco l'immenso valore ne conosco i sacrifici ogni giorno credetemi mi batto per promuovere e valorizzare la nostra agricoltura il nostro agroalimentare il nostro territorio grazie grazie ancora per essere qui grazie a voi e buon lavoro nonostante il primo omaggio grazie bene adesso cresce di più l'attesa e l'attenzione perché siamo giunti alla prova più importante di questo convegno al premio città di Siracusa handicap principale B che ha riservato e riserverà un Ghiotto Montepremi da 25.300 euro a 4 anni ed oltre che saranno impegnati proprio sui 1600 metri sono in 10 al via qualche difficoltà per qualche concorrente dentro e si parte gran partenza dall'interno di Ocalantuomo subito scavalcato da vincere insieme a largo Ma Captain ancora per via interne Windseeker gruppo comunque tutto compatto a chiudere Melo Black cavali percorrono metà dell'addirittura opposta all'arrivo ricordiamo 1600 in pista grande con le Bobacalla che ha rilevato nel frattempo vincere insieme di dentro va Ocalantuomo a largo si presentano bene Arkend Windseeker per via interne si affronta l'ultimo tratto dell'addirittura si entra in curva con Le Bobacalla leader in seconda posizione Mike Captain in terza all'interno Ocalantuomo a largo Biderman ancora Windseeker poi ancora vincere insieme Miss Brett a chiudere sempre Melo Black si fa ingresso e addirittura arrivo con i primi tre che si schierano al ventaglio di dentro Le Bobacalla al centro Mike Captain a largo Biderman filati da Ocalantuomo Windseeker che trova lo spazio a largo di tutti e scatta Le Bobacalla è sempre davanti Mike Captain lo insidia lo scatto di Windseeker seguito da Le Revere i più attesi alle prese con Windseeker che attacca e passa Le Bobacalla ma lo scatto di Le Revere e di quelli che fa male di dentro si riprende anche Mike Captain è una lotta a tre con Le Revere Windseeker alle prese Le Revere ancora una volta 4 su 4 Windseeker finisce secondo su Arkend e Miss Brett resta imbattuto Le Revere il figlio di Dreamhead i colori il signor Giuseppe dell'Oio ancora una vittoria di questo sette anni che sta scrivendo delle pagine importanti qui a Mediterraneo di Siracusa 4 corse 4 primi Windseeker le approvate tutte ma si è dovuto inchinare allo scatto di Le Revere e Antonio Cannella al terzo posto conclude comunque un valido Arkend a precedere Miss Brett 3.05 la quota di Le Revere 1.45 e l'arrivo del Città di Siracusa quarta corsa in programma Le Revere è il vincitore del premio Città di Siracusa edizione 2024 handicap principale B per cavalli di 4 anni ed oltre sul miglio della pista grande Giuseppe Dell'Oglio per i colori Salvatore Scalora al training in sella Antonio Cannella tantissimi complimenti parliamo al fantino e chiediamo che cosa gli è sembrato Antonio avevi già vinto con questo cavallo che è l'allenatore mi dice che sia un po' caratteriale però ha tanto potenziale oggi lo dimostra sì come ha detto l'allenatore è un cavallo che si è visto subito dall'inizio che c'era grandi mezzi è un cavallo un po' caratteriale abbiamo trovato il modo di correre oggi secondo me aveva una buona chance il cavallo sta venendo avanti corsa dopo corsa grazie all'allenatore al proprietario che mi ha dato di nuovo la fiducia di rimontarlo e abbiamo vinto super contenti un cavallo che vi fa ben sperare sicuramente dopo quattro successi su quattro condizionate affrontate qui a Siracusa insomma intanto ritenetevi soddisfatti e poi chiaramente si spera sempre di più beh signora chi potrebbe aspettarsi ancora di più ovviamente noi siamo i proprietari ci abbiamo creduto grazie all'allenatore Salvo Scalora che è un grande ha fatto un ottimo acquisto e con questo ci ha dato questa bellissima soddisfazione di avere questo cavallo con noi ed è veramente un cavallo formidabile in tutti i sensi a interfacciarsi con l'allenatore io lo chiedo a te Francesco Sirchia io dico subito di un cavallo che fa quattro corse e quattro primi che cosa vogliamo aggiungere? Allora quando l'ho comprato ci credevo tanto in questo cavallo poi è arrivato un po' che viaggiando è arrivato un po' malconcio il tempo che si è ripreso il proprietario era un po' giù di morale ci sono voluti quattro corse per capire di che cosa stiamo parlando io quando avete preso questo cavallo io ho visto un po' di corse in Inghilterra si vedeva che era un cavallo un soggetto di di buon livello e sicuramente mille e sei vista grande proprio cadono a pennello per le sue caratteristiche no ma lui è un cavallo di carattere bisogna solo aspettare e passare se ci sono dei cavalli che vanno avanti e lui ci fanno solo da treno allora domanda folcloristica mi è stata chiesta ma perché l'ho chiamata testa di valigia è perché quando è arrivato l'hanno messo così e lo chiamiamo così complimenti e forza testa di valigia sempre non ci hanno non ci hanno svelato il perché allora procediamo con le premiazioni il vice sindaco del comune di Siracusa Edi Bandiera premierà il proprietario dell'allenatore Alfantino iniziamo con il premio al proprietario perfetto primo classificato Giuseppe Dell'Oglio riceve dalle mani Edi Bandiera premiamo l'allenatore Francesco gentilmente se potessi porgerci la coppa prego Edi Bandiera premia l'allenatore Salvatore Scalora Dulcis in fundo ma non per merito Alfantino Antonino Cannella che riceve ancora dalle mani del vice sindaco di Siracusa Edi Bandiera archiviato il città di Siracusa proseguiamo con una condizionata sui 1900 metri in sabbia premio il trono di spade 11.000 euro il monte premi 4 anni ed oltre al via non corre il numero 3 Giamami si completa lo schieramento Francesco a te la linea perfetto Sabina e qui dentro si parte dall'interno Neleta scavalcata subito Basilian Jet classico frontrunner allargo Koskov ancora più allargo Outbreak a chiudere Centurione e comunque i 5 cavalli sono tutti ben raggruppati con con Brazilian che appiglia l'iniziativa Outbreak allargo l'oppedina insieme a Neleta quindi Koskov e Centurione e i 5 cavalli affrontano la prima curva ritmo discreto per il momento quello imposto da Brazilian Jet con Neleta sempre alle calcagne e Outbreak che invece sta a largo di Neleta a precedere il grigio Koskov e quindi Centurione si va sulla retta opposta all'arrivo e qui sembra cambiare anche un po' il ritmo perché Brazilian Jet pare a vista che allunghi Neleta si pone al suo inseguimento Outbreak scala in terza posizione precedere sempre Koskov e Centurione Brazilian come sempre qui a Siracusa in testa avanti tutta precede ancora Neleta quindi Outbreak Koskov e Centurione posizioni che sono cristallizzate il ritmo non non permette variazioni di sorta adesso Outbreak si avvicina Neleta con maggior consistenza mentre Brazilian Jet fa la sua corsa avanti tutta più indietro rimangono Koskov e Centurione si fa ingresso indirittura arrivo Brazilian Jet va a largo e Neleta va all'interno insieme a Koskov a largo si pone anche Outbreak è una lotta a tre quella che era preventivata alla vigilia con Brazilian Jet Outbreak che scatta al suo interno Neleta resta un po' disupparziale 1.900 sono sempre stati poco graditi al Fio di Paolette con Brazilian Jet che allo seccato esterno si pone a lunga ulteriormente Outbreak non può che essere secondo a precedere Neleta Koskov e Centurione successo successo di Brazilian Jet da un capo all'altro senza alcun problema il figlio di Marcaz la porta a casa i colori sono quelli di Sebastiano Romano il training di Sebastiano Cannavò Antonino Cannella che bissa il successo ottenuto a Focanzi con l'Rever e porta il figlio di Marcaz al successo 3,76 la sua quota 1 di Brazilian Jet al primo posto 6 di Outbreak al secondo 5 di Neleta al terzo 1,65 l'arrivo dalla quinta da Siracusa Dopo una serie di piazze arriva il primo successo dell'anno per Brazilian Jet sappiamo che è uno specialista dello schema ma guarda sicuramente la vittoria ce l'aspettavamo perché il cavallo è positivo nel periodo il traccetto in sabbia è il suo specialità che a lui piace tanto sono contento per i proprietari dai complimenti per la doppietta grazie rubo la linea a Sabino un attimo per presentarvi un quartetto folk che passiamo in tv lo citeremo in particolar modo perché oggi è una giornata molto ricca di folklore voi siete la nota giusta in questo in questo contesto quindi ci fanno sentire siamo nei cumpari stanno facendo il giro un po' di tutto quello che è l'organizzazione il territorio peraltro l'ippodromo offre spazi verdeggianti incredibili quindi tra il prato e il palmetto si sono dati alla musica in mezzo al grande pubblico in un'eccezionale occasione quindi sentiamoli in una tarantella siciliana di un'eccezionale di un'eccezionale suğlu in un'eccezionale in un'eccezionale di un'eccezionale Grazie a tutti. 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 un buon risultato. e mi è riuscito bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.